Generare una sensibilizzazione e un confronto sull'importanza del ruolo delle famiglie e delle istituzioni come contrasto alla fragilità minorile. Tavola rotonda nella mattinata del 4 aprile ad Ercolano con il sindaco Ciro Bonaiuto, il capo della procura dei minori Maria del Lusenberger, il presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, gli operatori del terzo settore e i componenti della comunità educata del comune di Ercolano. Un incontro che arriva ad un anno dalla partenza del progetto Pippi, finanziato con i fondi del PNRR e che è servito a tracciare un primo bilancio delle attività svolte dal comune di Ercolano e dall'ambito territoriale 29. Un'iniziativa straordinaria, il PNRR è necessario per colmare la lacuna tra il nord e il sud del paese e per raggiungere questo obiettivo non servono soltanto grandi opere pubbliche e grandi infrastrutture, ma serve intervenire nelle famiglie, serve intervenire contro la fragilità minorile. Noi vogliamo dare anche ai figli degli ultimi le stesse opportunità che hanno i figli delle famiglie più fortunate. È molto importante oggi rendersi conto del ruolo fondamentale della famiglia, però di una famiglia sana, che sia di supporto serio per quel che riguarda i minori e per la gestione dei minori. Purtroppo abbiamo visto che in tante occasioni tanti minori sono stati assolutamente abbandonati e quindi cresciuti in un ambiente assolutamente non idoneo, il che ha portato poi ad entrare nel momento in cui sono cresciuti in un ambito criminale. Quindi oggi quel che si vuole evitare e quel che si vuole in effetti creare anche col nuovo tribunale della famiglia è proprio quella un'attività di supporto continuo ai minori e alle famiglie stesse. Il PNRR, come ormai risaputo, dà un'opportunità ai territori. Nel caso specifico questa opportunità è rivolta alle famiglie vulnerabili. Pippi non è soltanto un progetto, è un modello operativo che stravolge il lavoro dei servizi sociali che a partire dall'intervento Pippi lavorano non più su base di segnalazione ma con un'ottica preventiva. Pippi consente l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare. Quindi vengono individuate delle famiglie target, si chiamano. Quindi i servizi sociali fanno un'analisi preliminare, individuano quella che è la famiglia che corrisponde ai criteri di Pippi e si attiva il servizio di educativa domiciliare presso il nucleo familiare. Quindi di fatto la famiglia è supportata con il ruolo di un professionista, in questo caso l'educatore professionale, ma anche di un'equipo multidimensionale che lavora intorno ad essa. Quindi il psicologo, abbiamo il sociologo che interviene sul nucleo familiare e supporta la genitorialità. Il fine è quello di arrivare ad una genitorialità positiva. È l'attività di prevenzione che può sicuramente aiutare a evitare la devianza dei giovani. Stiamo raccogliendo dei dati a fronte di un'assenza di dati che per anni c'è stata. Quindi questo è il primo aspetto fondamentale. I dati vengono raccolti, elaborati e quindi si individuano anche le realtà dove è più importante intervenire. Questo è un altro fattore fondamentale per evitare la devianza, l'ingresso nelle righe della malavita di ragazzi, di tanti ragazzi che vengono anche spesso semplicemente utilizzati per traffici illeciti. E questa è una cosa che veramente dispiace, vedere vite spezzate così presto.